Salve Tossers, bentornati a Splatoon 2 Octo Expansion Oggi innanzitutto volevo controllare la cosiddetta chat Me l'ha consigliato Rexolf Perché ha detto che ci sono varie curiosità interessanti Royal Gamesy si unisce alla conversazione Sono tornata, ti vedo No, la U accanto l'invio Ritirata, ritirata? Ah, intendi al bagno E che ci fa qui una mia foto? Questa è una violazione di privacy, bella e buona Ah, era per presentarci Beh, allora tocca a me postare una foto di Nori Ok Ha abbandonato la conversazione Che selvaggi Vado a prendere qualcosa da bere Buona idea Ha abbandonato Cosa? What? Cioè uscita per andare a prendere qualcosa da bere Ma cosa vuol dire? Cioè Boh Ok, grazie Ah, si chiama DJ Nori Nori Che figata ste foto Sono tipo gli artwork Una vecchia foto di Alga Ah, queste due Cioè, scusami Vanno a... Cioè, questa qua va a comprare snack, cose da mangiare e esce In senso Ah, poi arriva Coso, Capitan Seppia Troppo giusto Comunque, no Non è il nome completo di Capitan Seppia Nero Seppia Mi sa più di una battuta Perché Rexolf mi ha detto Eh, guarda la chat che c'è Cosa cacchio succede? Tranta Trenta Ok No, everyone No, everyone Oh, boy Ok Ah, il nome vero Allora avevi ragione Rexolf Che Nero Seppia è il vero nome Esce tutto in maiuscolo Capitan Seppia che si dimentica il Caps Lock Vabbè ci sta Nero Seppia come nome Addio Buon tempone Sicuramente sa usare la tecnologia meglio dei nostri nonni Allora 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 Dove andiamo Dove andiamo Facciamo sto spalto assalto Perché no Grazie a Rexolf è stato divertente Devo dire Onestamente me ne ero completamente dimenticato di sta chat Quindi Thanks Allora In rullo Non mi sembra l'arma ideale Però odio lo splatling Quindi faccio il Blaster Elite Che è l'arma forse più facile per sto livello Perché costa meno Solo tre vite E c'è il tempo Evviva Sapete quanto mi piacciono gli stage col tempo Eh Mannaggia quanti sono Comunque Ieri Ossia Cioè in realtà Non è ieri Che sto facendo C'è stato il Nindis Eh Direct No Cioè Non è proprio direct Vabbè E niente Mi dispiace un po' che non abbia mangiato a Team Time Perché aspetto di giocarlo Da un sacco di tempo Solo che mi scoccio Cioè io non mi piace giocare su PC Non ci posso fare niente Lo uso proprio questo Quindi spero che lo annunceranno in futuro Magari spero riusciranno a trovare le risorse Nell'altro Ma mi sa che a sto punto mi arrendo E lo gioco su PC e basta Non mi idiota Riuscirò comunque a trovare un modo Cioè magari un controller O un controller USB solo che è super cinese E' quello che usavo per giocare a Newer DS In streaming E di come facevo schifo In quegli streaming su PC Potete Postiate insomma E capire che non è il video migliore E non mi piace giocare su PC Spero di prendere il pro controller Almeno prima o poi per Switch Che è compatibile col PC Che costa un patrimonio 70 euro per un controller Può anche farti il caffè Però è troppo Cioè Qualcosa mi dice che è tutto il contrario E che l'arma più economica In realtà è quella più difficile Non lo so E' solo una mia impressione Oh 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 Ok Devo concentrarmi su uno solo di loro Ok Aspetto che mi si rigeneri lo scudo Nel frattempo prendo questo Non posso usare subito la mossa speciale Perché ce ne sono ancora quanti Due Ok Tanto valeva usarla Va Sono un Un cretino Anzi sono così cretino Che sono proprio Cretone Sono un cretone Ho superato proprio Il limite Oh Oh Niente Mi devo avvicinare Ehi bro Ah Ah pure lo scudo E' l'ultimo Ho un sacco di tempo Cioè Perdere sarebbe da stupidi Da stolti Da Da cretoni Eh Ok E' tempo di morire Oh boy E' troppo E' troppo troll Troppo 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 Ah Non mi piace per niente Non mi piace Oh Yes No No L'incastro Ora 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 No Il fatto è che si pulisce nel frattempo L'infame Oh Oh Ok Ok Ho di nuovo lo scudo Si è rotto tutto il coso Cososo Eeeh Dai Stupido Yes 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 Ok Comunque Volevo chiedervi Quanti di voi che stanno guardando questo video Hanno uno switch Hanno comprato 70 euro di pro controller Sono curioso davvero di vedere Quanti spenderebbero 70 euro per un controller Ok All'HD rumble Ha Il sensore in movimento Forse forse l'HD rumble è l'unica tecnologia un po' più nuova E interessante Però il giroscopio non è che sia Così esagerato e così costoso Cioè E' un controller normalissimo Vabbè la qualità costruttiva Chiaramente sarà Di alto livello Però il pro controller del Wii U costava 50 euro Mi pare Si Di prezzo di mercato Quindi 20 euro in più mi sembra eccessivo Inche perché La tecnologia migliora E i costi si abbassano Allora Odio il tinturicchio Quindi blaster Ok dai Ci può stare Let's go 5 vite Ok Oh è un boss Il primo boss Sono emozionato E' quel ciccio bomba Quello Quello con rullone Spoiler di Splatoon Tutti Quanti È il mio amico Come faccio a ucciderlo È il mio amico È il mio amico Della storia Solo che è più tostato di prima È il mio eroe Non posso ucciderlo Mi stai chiedendo troppo Gioco È il mio eroe Non posso ucciderlo Oh oh ok Ok Ho capito Devo stare più attento Oh Devo stare attento Anche agli attacchi tostosi Quando tira fuori i toast E che cos'è Tipo felpato Cioè È stranissimo Però sei così fashion Best boss No no Che Sono un idiota Devo salire Devo salire Devo salire Quanti siete qua Mannaggia Oh oh ok Questo boss È davvero tosto A sto giro In tutti i sensi Oh 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 Ok Niente Mi dovrò Me ne dovrò fregare di Di questi Cioè Oh ok Ok In realtà non me ne posso fregare di Dei tizi Però Non è che abbia scelta Perché il tempo è molto limitato Oh Nani Ma quanto è figo Oh oh Cacchio se è tosto Cioè Non smetterò di dirlo È sempre più tosto sto boss Approvo Però dovevate pagarmi I diritti Oh di gioco Nice Ok Oddio no Oddio 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 ti prego Veloce Ho finito l'inchiostro Ho finito l'inchiostro Yes Yes L'ultimo colpo Come i grissini Capitan seppia Fai schifo Ora ti vengo a distruggere Eretico Cioè i grissini Sono sempre fatti di pane Però Cioè puoi paragonarle ai toast Il toast Il toast È il piatto Per eccellenza È il piatto pane Per eccellenza Come fai a dire di preferire Di preferire i grissini Eretico Vergogna Che succede C'è un casino qua Mio dio Oddio Stanno tostando Ok Ok Tostata Tostata Perché ci sono i così Oh mio dio Oh mio dio Non so se ce la farò Ho bisogno dell'attacco speciale No Non ho nessun attacco speciale Perché non ci ho pensato prima Dovevo prenderlo subito Oh mio dio Questo boss è un inferno È un inferno fatto con amore Per carità Perché è pur sempre toast È un inferno Oh Ci siamo Oh 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 Ok It's time Motherfuckers Yes 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 Mi dispiace far fuori Un mio figliolo Però Resti in tostaroni Bene 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 La mappa inizia a colorarsi di bianco E fra poco torneremo indietro A quanto pare Valle silicio La silicon valley Attenzione Riferimenti dritti Proprio specifici Al mondo reale Oddio il blaster lunar Brutti ricordi Ok Ehi Idiota Capoturi è il vero boss finale Secondo me Cioè Scherziamo Ok No No Non è per niente Ok Non è per niente Ok Ho quasi finito l'inchiostro Ma siamo seri Ma porco Porco cane Come faccio Cioè Non capisco Cosa c'è Da dietro Eh sì Vabbè Ha senso Eh Se si fa prendere Devo far finta di non esserci Cacchio Sto già rifinendo l'inchiostro Ma è normale sta cosa È impossibile Da prendere Da dietro Oh mio dio Oh mio dio Di nuovo Yes Vi prego Datemi un po' di inchiostro Per l'amor del toaster Ok Ma è pochissimo Come faccio È impossibile Come ribatto Si cosi Ho troppo poco inchiostro Gli do pugni Cioè Spiegamelo Capoturi È di schifo Avevo sbloccato La bar Non l'ho presa Sono un idiota Vabbè Cerchiamo di risparmiare Al massimo Io sono un risparmiatore Seriare Nella Nella vita reale Quindi non sarà difficile Forse Però sei un nabbo Nei videogiochi Non hai tutti i torti Bro Oh 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 Ok Chiave Chiavosa Perfetto Questo video Sarà demonetizzato Oh yes Ora si ragiona Boys Ora non posso sbagliare Certo Sempre inchiostro limitato Però Non siamo prima I cicciombomba Sempre razzismo Contra i cicciomi Ma no Io vi voglio bene E allora perché Ci fai vivere Nell'armadio Ehm Ma Cioè Allora Per quello che Per me è un armadio Per voi è È un mondo intero Cioè Siete piatti Piattissimi Siete delle immagini Eh però Noi siamo immagini 3D Perché siamo cicciosissimi Ok Cosa c'è qua Yes Eh Posso prenderlo Dopo aver rotto Sto coso Immagino Ok Almeno posso Preservare quello Posso rompere anche questa Perché no Eh non è servita a niente Vabbè Dieci cosi Ok Adesso andiamo a prendere Questo Fuoco libero Enzo Perfetto Mettiamoci qua Very nice E' finito il livello Oh mio dio Ah vabbè Un octo ring Inutile Cioè dai Vero Sono Sono un octo ring Migliore di te Davvero Cioè Ho inchiostro limitato Pure per rompere Sto coso Ma quanto sarete Cioè io allora Io non ci sono morto qua Ma già immagino Un me Di un universo Parallelo Di un'altra timeline Doni sempre pensano Ma si mangiano No mi dispiace Non si mangiano Penso a un altro me O comunque Qualcun altro Che è morto là E lì Saranno volate Imprecazioni Di tutti i tipi Ma Non sono io Quello Quindi Va benissimo Finiamo Il cerchio Cerchio La curva qua Con La torretta torpedina Oggi stiamo andando Lisci Lisci Quindi La cosa è un po' Sospetta Dire il vero What What Cosa stai Complottando Capoturia Capoturia Ok Almeno c'è un'arma Ok Devo attaccare Sosposo Alla destra Non vedo niente Perché c'è C'è un altro Biberone doppio A sto giro Non c'è niente Ah Ecco Ah Devo 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 proteggere Sto coso Ho una mira Terribile Ma proprio Terribile E' finita Signori Non c'è Speranza Fammi esplodere Capoturia Ah Stavolta Non lo fai vedere Troppo cruento Eh Ah Ci sono dei gadget In giro Starei più a guardarli Però Secondo me Ci sono un sacco Di riferimenti Nintendo Dalla destra Non c'è niente Alla sinistra Oh decidetevi Ok Bisogna solo cercare di mirare un pochino più A sinistra o a destra Per capire Insomma farmi fuori subito Adesso devo mirare un po' più in là Per 30 secondi Tutto a posto Non è anche tanto Nori Eh Nori Alga Vai a comprare gli snack Cretino E dai Mannaggia Mannaggia Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio No Sparando al terreno davanti a loro Mira al tentacolo Ah Devo Ecco perché Ecco perché non li prendevo mai Devo Devo prendere al terreno Perché Perché la mira è strana qua Sono Un bacca Ok Ora ho capito tutto Dalla vita Oh E voi da dove apparite Yes Non era così difficile Affatto Questo è uno di quelli stage Sì Che dopo che l'hai fatto Dici che non è così difficile Ci sarà Cioè Questa cosa mi è capitata Non poche volte Nella octo Tranne per quello stage Dell'ultima volta Che mi ha fatto impazzire Ok Abbiamo sbloccato un'altra linea Vediamo che ricompensa Malvagia avrà Capoturia Per noi però Prima voglio vedere La chat Sono accorto di batteria Devo andare a prendere Il caricatore Roger Oh mio dio Perché Cioè Escono quando Se ne devono andare a fare Boh Nonnetto Siamo soli Che noia E' vero E' con l'apostrofo Uffa Vabbè per ingarare il tempo Proverò a fare le ricerche su di te Mi vergogno Oh Quello è il nonnetto Oh mio dio Guarda che trovate Il sottotenente seppia La guida della divisione Branchia Sconfisso Esercito nemico Nella durissima battaglia Il castello di Arawana Che nostalgia Uh Sei un mito Nonnetto Ma veramente Tranne per il fatto Che preferisci i gristini Plebeo Inutile Sì 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 Quando è che mi fa esplodere Eh Avanti Piazza puzza Promettente la cosa Clasher Ok Qui c'è qualcosa che non quadra Un altro boss O un coso Un coso Ma è un No è una bottiglia È un Un bicchiere Un bicchiere Un bicchiere Come si fa A distinguere una bottiglia A non distinguere una bottiglia Da un bicchiere Mistero No è un baker No è Vabbè È quel che è È un coso Cioè Non è che possiamo specificare È un coso Lo dice pure il gioco C'è bisogno di un carrello Per spostare un pezzo di vetro Sì è un baker Complimenti Hai preso il secondo coso Hai già trovato la metà dei cosi Chi l'avrebbe detto Continua cosi A quanto pare Questi quattro cosi Hanno diverse forme Sono parti di un aggeggio Ma non ci capisco niente Nemmeno io che adoro i macchinari Effettivamente Come combinare Una macchinetta E il caffè Un baker E Quello che ci sarà dopo Ho paura Veramente Chissà che ne uscirà fuori Allora Piuttosto che continuare Nella linea Rosa Fucsia O quel che è Finiamo questa celeste Anzi finiamo questa viola Ci mettiamo prima No Finiamo quella verde Ok Finiamo quella verde Pilastri in piastri Come me Mio dio Sweeper 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 A qualunque coso Allora abbiamo Una cassetta Una videocassetta Videocassette ovunque Non lo so perché Ma mi ricordano qualcosa Non sono un riferimento a Nintendo C'è una PS4 Slim Che si sta decomponendo No è sempre una videocassetta Eh Ok Andiamo dai Almeno qua non c'è tempo Cioè il tempo Se non so Suona male Eh Come faccio Fali fuori a uno a uno C'è un problema solo Come? Sono lontanissimi Mi sa che Ho sbagliato decisamente A prendere quest'anno Non ho Non ho manco le bombe Come faccio? Ok ok si può prendere Grazie Molto Molto consolante La cosa Mannaggia a te Nori Let's go Ok Devo essere super agile Ma se vado là invece Non mi fido Non mi fido affatto Saliamo Perché non mi ero accorto Prima di poter salire Fammi Sono uno scemo Inchiostro Che è la cosa più inutile In questo momento Oh Oh ma che Oh Ma che Oh Porco cane Ma che Cacchia Non ho più Inchiostro Feno male che era la cosa più Inutile in questo momento Oh mio Dio Oh mio Dio Sono in trappola Nani Non ce la posso fare signori Sì Io Ce la posso Fare Allora pensiamo La cosa con calma Forse è meglio andare di là E infatti Decisamente meglio Cioè in realtà Non molto meglio Per carità Perché ci sono quelli che rompono Però Almeno non Non finiscono in piccolo cielo Ok Mi piace Perfetto Ho appena rotto Il mio unico scudo Oh 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 Cosa ho appena fatto Oh mio Dio Non mi prendono qua Vero Oh 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 Morite tutti Morite tutti Tutti Che ansia Gli ultimi due Yes Oh mio Dio Ogni volta che sento Il rumore di quei cosi Mi sembra il mio aspirapolvere Lì giù È lo stesso identico rumore È il rumore di un aspirapolvere Del mio aspirapolvere È identico Non scherzo Oddio Oh mio Dio Non ho le bombe Non ho le bombe Non ho le bombe Vai 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 Dove devo andare Fortuna che non c'è il tempo Questo stage è confusione Ai un sacco Ancora tre Ah devo far fuori tutti i nemici Bello A saperlo prima Li facevo fuori tutti dal punto alto Non avevo più senso Oh Oh yes Yes Però come lo uso Cioè dove sono Allora Uno è Non vedo niente Bene Ok Uno è da queste parti Uno è da questa direzione Non lo vedo Oh oh Sono là E uno E due E tre Cioè Ok Sogna sempre a chiudere col botto A trovarlo però sto tizio qua Cioè mi pare di aver visto un tizio messo di lato Da quelle parti Ah eccolo Eccolo Sei mio Yes Bene bene Oggi abbiamo fatto un bel po' di progressi E forse la parte verrà più lunga del solito Non lo so Dipende dai tagli Non riesco mai a capirla È difficile Perché Non si può mai sapere Cosa fai nell'editing Cosa farà il Danny del futuro Bene Spero che la parte vi sia piaciuta Se vi è piaciuta Fate le solite cose Mi piace Commentare Non è che siete obbligati Però se non lo fate Insomma Direi che il vostro pancreas potrebbe finire male E niente Grazie E bye bye Grazie a tutti